benvenuto caro amico ad un nuovo episodio del nostro podcast investo su di me podcast dedicato alla crescita personale e poi finanziaria oggi argomento esplosivo cos'è il bioaching e come iniziare facilmente quando si parla di medicina convenzionale la maggior parte delle volte ci si riferisce al curare non al prevenire vero un vaccino previene un esame specialistico cerca di prevenire ma solitamente si ricorre alla medicina quando si sta già male e si vogliono ridurre tali effetti giusto bene direi che di massimo la medicina si manifesta nel momento del bisogno tramite una cura ok il bioaching invece che erroneamente deriva da come hackerare la propria vita riguarda molto l'imparare ad analizzare a priori da soli per poi ottimizzare i parametri e prevenire così stati patologici personalmente l'avrei chiamato tipo self bioanalysis ma il marketing ha vinto ancora e quindi il bioaching secondo me è comunque uno strumento straordinario per tutti coloro che vogliono migliorare la propria longevità e non ha neanche bisogno di tanto tempo per impattare sul neofita perché come è successo a me ti prende immediatamente in un vortice di dati che affascineranno la tua persona la tua salute la tua vita dal primo giorno in cui inizierai nei miei canali nei miei libri nei miei corsi ripeto molto spesso che le persone non si rendono conto di come le proprie prestazioni psicofisiche condizionino le performance lavorative perché essi dipendono dal proprio stato di benessere corporeo e mentale che si tende molto spesso a ignorare dinanzi al lavoro al sopravvivere quotidiano in costante stato di emergenza e fretta in questa società disattenta e competitiva per questo motivo sono subito stato affascinato da questa disciplina perché ti pone dinanzi a dati realistici che se degnamente analizzati possono accompagnare ogni individuo in una concreta trasformazione personale una crescita professionale con notevoli vantaggi il nostro corpo non è semplicemente l'involucro della nostra mente e della nostra anima ma è invece uno strumento di accelerazione e uno strumento di cui aver cura se vogliamo elevare il nostro mindset il tono dell'umore e le performance psicofisiche facci caso abbiamo sempre la spia dei livelli di energia in riserva e non riusciamo mai a capire come migliorare ma la soluzione di partenza è sempre una sola anche se tu farai finta di non accettarla perché faticosa allenarsi regolarmente iniziare ogni giornata in una maniera diversa focalizzandosi dapprima su se stessi e poi sul lavoro accento al rilascio di tutta una serie di mediatori ormoni e neurotrasmettitori come endorfine dopamina ossitocina e serotonina che scientificamente è noto che ti avvicino a un ottimo stato di salute ad un incrollabile e resiliente stato mentale alla positività e alla felicità ad esempio allenarsi in qualsiasi maniera tu voglia prima di una riunione importante un esame un colloquio di lavoro può davvero cambiare le sorti di quel particolare evento chi ha problemi di metabolismo deve assolutamente pensare a fare attività fisica come una vera e propria terapia ma per coloro che si sentono apparentemente bene e sono normo peso semplicemente non trovano la giusta motivazione perché non vedono il motivo per il quale allenarsi sai cosa rispondo queste persone prova un attimo ad allenarti di mattina prima di una giornata particolarmente impegnativa e comprenderai istantaneamente i motivi che come noi ti renderanno dipendente dall'allenarti ho usato una parola perfetta ad oggi io sono dipendente dal fare attività fisica senza essere un atleta posso definirmi uno sportivo perché sono una persona che si allena abitudinariamente quasi tutti i giorni che fa appunto qualcosa di ripetitivo per sentirsi meglio crescere e trasformarsi costantemente quando non mi alleno sento che mi manchi un qualcosa perché provo un senso di dipendenza dalle endorfine azzarderei ad un senso vero e proprio di astinenza io sono un manzo di 90 kg e se non mi alleno mi sento fiacco e mi viene da pisolarmi dopo pranzo mentre se mi alleno sento proprio una sensazione di buon umore che corre nelle vene e di energia che si prolunga a tutta la giornata ok dopo questo corposo preambolo entriamo ora nel vivo dalla discussione molti mi formano domande come perché dovrei iniziare un percorso di biohacking e come quali sono le funzioni più importanti che dovremmo analizzare controllare prima di tutte le altre per impattare subito sulla salute psicofisica del neofita per renderlo consapevole utilizzando una frase cognata da peter diamantis che spero tu conosca altrimenti di consiglio di fare alcune ricerche dobbiamo diventare l'amministratore della nostra salute attenzione qui parliamo di preservare il nostro fisico e la nostra capacità più importante la salute appunto e sappi da subito che ritengo non siano attività delegabili a terzi ok certamente il passo principale primario da compiere per intraprendere un efficace percorso di biohacking secondo me è quello di iniziare ad usufruire di idoneo dispositivo tecnologico per rilevare i propri dati personali in maniera analitica evitando da subito di ossessionarti dinanzi ai singoli dati ma avere un orizzonte temporale medio lungo all'inizio almeno di 100 giorni prima di trarre le prime conclusioni infatti tutto ciò che dovrai fare è essere consapevole di poter aver bisogno del biohacking una volta convinto dovrai dotarti di un dispositivo idoneo per raccogliere dati dal nostro corpo per qualche settimana formulare poi delle ipotesi e trarre delle conclusioni per riportare l'equilibrio nel tuo corpo tramite i prossimi step che affronteremo l'utilizzo della tecnologia potrà divenire il tuo migliore amico o nemico perché da una parte ti aiuterà con tutta una serie di informazioni ma dall'altra ti potrà depistare se raccogliamo dei dati inutili o addirittura malinterpretati ok occhio all'utilizzo or bene quali sono gli strumenti con cui posso raccogliere questi dati finalmente ti posso dire che sono tanti e li verranno a breve termine tantissimi devono essere wear balls cioè indossabili a contatto con il il corpo per trarre giustamente i parametri corporei possono essere orologi apple o android anelli come aura ring o i nuovi google o samsung possono essere dei bracciali e non escludo che in un prossimo futuro possono anche essere integrati nell'organismo come dei sensori interni monitorati da un display esterno quindi effettuano una ricerca e scegli un dispositivo di diagnosi quello che tu ritieni più appropriato alla tua persona ti consiglio di iniziare da un dispositivo semplice perché le variabili potrebbero essere veramente tante e andrebbero studiate in maniera personale approfondita anche intrecciando i dati ovviamente quindi all'inizio è meglio che siano pochi e poi l'appetito verrà mangiando per aiutarti ti consiglio di iniziare con un orologio tipo i watch se usi apple o samsung o huawei gt3 con android poi potresti utilizzare uno smartphone con un'app dedicata che specie quelli dell'android sono davvero eccezionali anche se non nego che quelli di apple sono un pochino più evoluti l'anello o il bracciale sono step francamente successivi perché spesso prevedono anche costi di abbonamento mensili non alla portata di tutti quindi una volta scelto ed ottenuto uno di questi strumenti dovrai focalizzarti nel raggiungere obiettivi di salute psicofisica che agiranno sulla tua centralina come delle gratifiche per instaurare più facilmente quello che nel nostro best seller in verso su di me ho chiamato sarg cioè il ciclo dell'abitudine specie nell'allenamento poi ti chiederai come potrò utilizzare questi dati semplice iniziando a capire quali sono le tue cattive abitudini per porvi subito rimedio tramite la stessa relativa app e la spiegazione attenta di ogni dettaglio del parametro alterato ad esempio capirai che i tuoi bassi livelli di energia sono essenzialmente dovuti al poco o cattivo sonno semplicemente per non creare casino nel tuo cervello i dati che dovrai attenzionare prioritariamente dovranno essere quelli relativi all'analisi della qualità del sonno e dello stress sono talmente importanti che li ripito sono primariamente quelli relativi all'analisi della qualità del sonno e dello stress perché perché sono intimamente intrecciati in una interconnessione bidirezionale che coglierai subito dopo aver iniziato infatti vorrei farti subito un test rispondi a queste domande in sincerità sai quanto dormi ogni notte conosci la media dell'ultimo mese sai in quanti periodi di diviso il sonno e che importanza ognuno di essi sai quanti ore ti necessitano per essere più performante lo saprai tramite il dispositivo di rilevamento e la sua relativa app rammenta però di non farti condizionare totalmente da questi apparecchi perché ci sono delle persone che vivono questo aspetto del biohacking in maniera davvero assagerata secondo me abbia un approccio distaccato ed essenziale scegli un giorno determinato per entrare a controllare l'app ad esempio io uso il sabato mattina ed affidati non a dati giornalieri ma meglio se settimanali o medie mensili perché la salute deve diventare un'abitudine e non un unatantum ok bene ritieni siano argomenti interessanti che possono davvero mettere il turbo alla tua crescita come persona consapevole ne sono felice ognuno di noi è l'unico responsabile della propria trasformazione del proprio sviluppo e quindi comprendere come integrare queste competenze all'interno della propria vita penso proprio sia davvero una cosa fondamentale essenziale siamo in un frangente storico dove la scienza e la medicina stanno facendo dei passi da gigante e francamente chi non studia queste cose è come se non avesse in mano le redini del proprio corpo della propria mente del proprio futuro invece colui che le studia avrà in mano i segreti della longevità bene ricapitolando velocemente il grande primo passo che abbiamo affrontato in questo audio abbiamo visto che la scelta ed utilizzo consapevole di idoneo dispositivo tecnologico per rilevare i propri dati personali in maniera analitica è il primo passo in assoluto poi dobbiamo imparare ad interpretare i dati iniziando dai primi due fondamentali quelli relativi all'analisi della qualità del sonno e dello stress che concederanno già nelle prime settimane degli ottimi risultati dal punto di vista del benessere personale e ti spingeranno verso il secondo step più tecnico che darà enorme slancio alla tua consapevolezza da biohicker inizia ad allenarti regolarmente per verificare l'impatto dei tuoi parametri sarà dura no non sarà dura perché sarà intrigante ed inizierai a sentirti come invincibile e ciò ti indurrà a fare sempre meglio bene io ho per oggi ho finito ti attendo al prossimo episodio con il secondo grande passo un grande abbraccio da toni di investosudime.com ciao